Salve a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video, come sempre un saluto da Max e parliamo di pomeriggio 5 perché sono successe delle cose, alcune cose. Ci sono stati proprio dei momenti di grande imbarazzo nell'ultima puntata che c'è stata. Il programma condotto da Barbara D'Urso sappiamo che è in onda ogni pomeriggio, come sempre, ci sono un sacco di argomenti, tanta carne al fuoco, che è trattata dalla conduttrice. Da due edizioni ormai a questa parte, oltre al gossip in generale, si parla di argomenti più seri, come anche, non si sono fatti mancare politica, cronaca e inchieste. Nel 2021, infatti, la rete Ammiraglia aveva chiesto a Barbara D'Urso un cambio di passo. Così è arrivata una nuova versione di Pomeriggio 5 più in linea con le attuali esigenze d'ascolto. In questi due anni il programma di Canale 5 ha letteralmente mutato pelle. Sigla diversa, studio e grafica nuovi per dare una sorta di taglio al passato fatto solo di gossip e personaggi provenienti dal mondo dei reality show e dei social. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, aveva spiegato la D'Urso e sorrisi e canzoni tv. E radicale cambio anche nel look della conduttrice, che ha abbandonato payette, colori sciocche e accessori esagerati per un abbigliamento più ricercato e sobrio, in linea anche con gli argomenti più seri di cui tratta. Ovviamente una parte del talk è incentrata sul gossip. Il gossip a Pomeriggio 5 è sempre stato il fulcro e ovviamente Barbara D'Urso non ha abbandonato del tutto la cronaca rosa. Nel blocco dedicato proprio a questo argomento la conduttrice ha ospitato Marco Bellavia. L'ex concorrente del GF VIP 7 ha parlato del flirt Sheila Capriolo. Da lì il vipone ha accusato la donna di essere uscito con lui allo scopo di avere visibilità svelando che poco prima aveva fatto i provini per partecipare a Temptation Island. Marco Bellavia non ha fatto in tempo a pronunciare il nome del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla fascino di Maria De Filippi che la conduttrice lo ha stoppato. Non si parla di altri programmi televisivi, grazie, lo ha ammonito immediatamente Barbara D'Urso scatenando l'ironia e i commenti sui social. Da tempo si parla della rivalità della D'Urso con la De Filippi e questo sarebbe l'ennesima dimostrazione della FAIDA di Mediaset.